Continua il problema rifiuti al sud e in particolare nella terra dei fuochi che cosa sta accadendo? La terra dei fuochi è un territorio a cavallo tra le province di Napoli e Caserta, sta balzando la ribalta in queste ore, sono ettere e ettere di territorio, due milioni di persone, lì ci sono rifiuti urbani, industriali eccetera, abbandonati e quello che sta passando, sbagliato, è il concetto che lì c'è la responsabilità degli industriali del nord, cosa assolutamente vera o parzialmente vera, lì la realtà è che la responsabilità sta negli enti locali, nei sindaci, nei presidenti della provincia, nel presidente della regione, nell'ARPA che in questi anni non hanno fatto alcun controllo. Ecco, vorremmo evitare che il governo facesse un decreto con lo stanziamento dei soliti soldi e della nomina di un commissario per fare un provvedimento che non va a risolvere il problema. Cosa bisogna fare invece? Beh, innanzitutto mettere nel rosso e bianco, individuare le responsabilità, dopodiché lì c'è un problema di smaltimento dei rifiuti e quindi soprattutto quei territori, quelle province, quella regione devono programmare degli impianti di smaltimento dei rifiuti. Ecco, vorremmo evitare che questi rifiuti vengono presi e esportati fuori regioni, magari finissero ancora al nord, non lo possiamo accettare. Grazie. Grazie.